Una buona domenica e benvenuti al TG6 la settimana che si apre andando a Chieti con le argomentazioni della Corte dei Conti che evidenziano chiaramente le responsabilità della destra. Ora valutiamo di rivolgerci alla Procura della Corte dei Conti, così il senatore del Partito Democratico Fine e il capogruppo in Regione Paolucci che hanno spiegato in conferenza stampa la loro posizione. Qual è il punto di vista del PD sulla sentenza della Corte dei Conti e sullo stato finanziario del Comune di Chieti? Le argomentazioni che ha utilizzato la Corte dei Conti, ben 115 pagine, non lasciano alcun dubbio. Le responsabilità del grave dissesto economico e finanziario del Comune di Chieti sono originarie e originate tutte nell'amministrazione di centrodestra, l'amministrazione di primio che in dieci anni ha affossato questa città. Da questo punto di vista occorre fare, per quanto riguarda il PD, chiarezza e lo faremo nel corso dei prossimi giorni a partire da oggi e in secondo luogo valutare, via dire, la Procura della Corte dei Conti perché noi riteniamo ci siano le responsabilità e le colpe gravi di un dissesto che sostanzialmente è stato addirittura programmato. Una situazione difficile ereditata dalla precedente amministrazione è che questa amministrazione sta cercando di risolvere davvero con grande generosità e negazione. Solo a Chieti l'eredità è così pesante e questo è davvero un fatto increscioso perché ci deve essere la possibilità dell'alternanza ma chi arriva deve poter trovare una situazione gestibile e invece anche da questa relazione significativa della Corte dei Conti la realtà che è stata lasciata è stata davvero ingestibile. Chi ha amministrato in passato Chieti deve davvero rispondere, rispondere innanzitutto di fronte alla loro coscienza, di fronte alla città e alle loro responsabilità politiche. È davvero singolare che si propongano con questi dati certificati di tornare a amministrare questa città. Dovrebbero chiedere scusa e lasciare che chi c'è adesso impieghi tutto il tempo necessario per riparare gli danni che loro hanno fatto. Grazie. E martedì è stato il day after le elezioni amministrative nella nostra regione. Con il 54,4% Gianguido D'Alberto viene riconfermato sindaco di Teramo al primo turno. Una vittoria schiacciante che vede il centrodestra terramano rappresentato da Carlo Antonetti, fermarsi al 36,3%, mentre la terza candidata, Maria Cristina Marroni, si attesta al 9%. Una vittoria piena, senza mai un momento di incertezza, estremamente gratificante. Dopo solo tre ore dall'inizio dello spoglio, il distacco con gli altri sfidanti era già un avvisso che non lasciava dubbi. Gianguido D'Alberto viene così riconfermato sindaco di Teramo con il 54,4% delle preferenze e conquista 20 seggi nel prossimo Consiglio Comunale. Sconforto e delusione per Carlo Antonetti, sostenuto dal centrodestra unito e da Azione di Calenda, che si ferma al 36,3% ed elegge nove consiglieri. Infine, Maria Cristina Marroni di Italia Viva, con la sua coalizione civica, raggiunge il 9% e conquista un seggio nell'assise comunale. All'arrivo nella sua sede elettorale, D'Alberto è stato accolto con commozione ed entusiasmo alle stelle. Un'emozione che ha trasformato il sogno che cinque anni fa abbiamo avviato e iniziato per la nostra città in ambizione, un'ambizione che si è tradotta in attività amministrativa. Abbiamo proiettato Teramo nel futuro attraverso un'azione forte, una visione che dovremo ovviamente proseguire. La vittoria è netta e chiara, senza equivoci ed è una vittoria del buon governo, del buon amministrare, come dicevo prima, è anche una vittoria politica importante. Non dimentichiamo una cosa, anche dal punto di vista politico, che questo è il collegio nel quale è stata eletta la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Quindi è un segno anche di un risultato politico significativo, che fa di Teramo un laboratorio civico-politico unico nel suo genere, che guarda al futuro, guarda anche al di fuori dei confini territoriali e quindi diventa un modello a cui tanti guardano con attenzione. Adesso come crescerà Teramo? Teramo continuerà a crescere sviluppando il progetto che abbiamo portato avanti nel corso di questi cinque anni, con 240 milioni di euro di investimenti. Abbiamo già scritto il futuro della nostra città, ora con la comunità insieme lo definiremo mettendo a sistema tutte queste opere che abbiamo finanziato, ma soprattutto una fiducia, una consapevolezza che Teramo ha riacquisito nel corso di questi anni. E quindi alla città non posso che promettere di proseguire l'impegno, di migliorare. La vittoria del centro-sinistra Teramo capoluogo diventa così simbolo di riscossa e di buon augurio per le prossime elezioni regionali che si terranno nel 2024, un test anche sull'alleanza con i 5 Stelle. Un commento a caldo? Una vittoria netta, schiacciante, straordinaria, è stato premiato il buon lavoro di questi cinque anni, è stato costruito un progetto per il futuro credibile, i cittadini hanno mostrato tutto il loro consenso, è un buon viatico anche per le regionali oggettivamente. Fondamentali per la vittoria di Dalberto e per le alte percentuali di voti in favore del centro-destra sono state le liste civiche. Infatti il primo partito in città è la lista Insieme Possiamo con Gianguido che raggiunge il 15,23% seguito dalla lista civica Futuro In, che fa riferimento all'ex consigliere regionale di Forza Italia Paolo Gatti, con il 14,04%. I partiti tradizionali non sono andati forte, Fratelli d'Italia non arriva al 10%, così come il Partito Popolare Terramano, che si ferma al 9,44%, un risultato quest'ultimo che soddisfa però la neosegretaria comunale Pamela Ronconi. Lei ha costituito una lista del PD particolare, piena di giovani, di donne? Sì, è una lista rinnovata. Ci sono gli uscenti, quindi le due assessore e cinque consiglieri comunali, ma ci sono anche tanti giovani, dirigenti di partito e non, su cui abbiamo intenzione assolutamente di investire per il futuro del PD. E infine, il più votato è stato il vice sindaco uscente Giovanni Cavallari, con 961 preferenze. Il secondo, l'assessore uscente agli eventi Antonio Filipponi, con 856 voti, mentre in terza posizione troviamo Mario Cozzi, di Forza Italia, con 820 preferenze personali. Siamo a mercoledì, il maltempo, non da tregua, all'Abruzzo, a Bucchianico, provincia di Chieti, paura per una frana che ha lambito alcune abitazioni e investito due macchine in sosta. A scopo precauzionale sono state evacuate alcune famiglie residenti. Parlano di disastro annunciato. Erano le 4.20 che sto facendo una visita con l'altro figlio a Chieti Scalo e mi ha chiamato mia moglie gridando che gli era scesa giù tutta la frana qui. Proprio lei era appena scesa dalla macchina. Momenti di paura ieri pomeriggio a Bucchianico, in provincia di Chieti. A causa delle forti piogge che stanno interessando l'Abruzzo, una frana di una trentina di metri in località Santa Chiara è venuta giù, raggiungendo le case sottostanti e travolgendo auto in sosta. In quel momento all'interno dei mezzi non vi erano persone. In totale sono quattro le famiglie evacuate a scopo precauzionale da due edifici. Una strage sfiorata con muri che tremavano come in un terremoto, dicono alcuni residenti, mentre altri parlano di disastro annunciato. Si sapeva che l'acqua lì ci penetravamo, non si sa se veniva da sopra, i tubi che perdevano, non si sa, però anche da come si vede, dalle foto di Google di tempo fa dietro già si vedeva una bella spaccatura della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri e un tratto di strada di circa 50 metri è stato chiuso. Un'arteria viaria che l'estate scorsa era stato oggetto di lavori, ma dove in questi ultimi giorni era ben visibile una crepa. È un mesetto che sta a due o tre settimane buone che la strada scendeva sotto gli occhi di tutti. Siamo a giovedì e a Teramo c'è stata la presentazione di Carmine Soriente, nominato nuovo questore della città. Aprutina Soriente, che ha rivestito il ruolo di dirigente della Polizia Ferroviaria di Napoli, si è insediato in questura al posto di Lucio Pennella, assegnato a Ravenna. Cambio al vertice della questura di Teramo, da oggi il nuovo questore è Carmine Soriente, che prende il posto di Lucio Pennella, destinato a Ravenna. Soriente è stato dirigente del compartimento Polizia Ferroviaria di Napoli e promette ascolto e sicurezza ai cittadini teramani. Sono appena arrivato, sono arrivato ieri, questo è il mio primo giorno, quindi oggi incontrerò le autorità e poi da subito ho intenzione di incominciare a conoscere proprio di viso il territorio. Le sue esperienze precedenti? Le ultime esperienze sono state, ho diretto il compartimento Polizia Ferroviaria Campania, prima ancora il reparto mobile di Napoli, prima ancora la sezione Polizia Stradaria di Napoli, poi sono stato a Bale al reparto mobile, commissariato di Siderno Marina, squadra mobile di Salerno. Non l'hanno avvertita sul nostro territorio quali sono le esigenze? Qualche criticità? Ma col mio predecessore, che fra l'altro mi permetto di dire ha fatto un lavoro eccellente, mi ha lasciato da questo punto di vista una realtà pesante, perché dovrò cercare perlomeno di eguagliarlo, abbiamo scambiato ovviamente una serie di informazioni, mi ha dato una serie di informazioni su cui mi metterò a lavorare. Lo staff è uno staff collaudato di persone che conoscono il territorio, di funzionari in gamma, quindi sicuramente da terminate queste presentazioni ci rimbocchiamo le mani e ci mettiamo a lavorare. E la procura di Pescara ha chiesto le carte del piano di risanamento acustico da poco approvato in Consiglio Comunale. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, si dice tranquillo parlando anche delle ipotetiche frizioni interne alla sua maggioranza. Sul piano di risanamento acustico approvato tra le polemiche dal Consiglio Comunale di Pescara si muove anche la procura. All'amministrazione sono state richieste le carte relative al nuovo regolamento che da qui a poco dovranno rispettare i gestori dei locali della Movida Cittadina per una convivenza serena con i residenti delle zone coinvolte. Proprio quest'ultimi, lo scorso anno, avevano richiesto l'intervento della procura. Credo che la procura abbia voluto acquisire gli atti che noi stiamo facendo, vedendo che noi stiamo facendo gli atti e non che non li stiamo facendo. Siamo la prima amministrazione che fa atti concreti su questo tema, anche se questo tema esiste da molti molti anni, da prima che io diventassi sindaco certamente. Anzi, forse allora è stato acuito il problema e allora si sarebbe potuto risolvere in maniera molto più tranquilla e serena. Poi quando i buoi sono scappati dal recinto è difficile riportarli dentro, ma noi ci stiamo riuscendo sapendo che c'è una linea chiara che questa città segue. Una città che dal punto di vista economico dimostra una vitalità che non c'è mai stata anche dopo la pandemia. Ma io immagino anche la bandiera blu che sta portando grandi vantaggi alla città dal punto di vista dell'immagine, tutti gli interventi di opere pubbliche che stiamo facendo. C'è una città che si muove molto velocemente e sa che deve decidere quando deve decidere. Il primo cittadino sorride quando si parla di screzzi all'interno della stessa maggioranza. Questa storia della guerra tra gli assessori l'ho letta sul giornale, sinceramente mi fa sorridere perché non c'è stato mai un problema con gli assessori, anche perché gli assessori sono delegati del sindaco, sono collaboratori del sindaco e quindi ci mancherebbe che ci fossero assessori che non condividono la linea del sindaco, la linea comunque della maggioranza. Queste sono le polemiche politiche che ci stanno sempre, i giornali si divertono anche ad alimentare cose che spesso vengono equivocate, però su quello assolutamente c'è da sorridere. Parole durissime quelle pronunciate sabato mattina in conferenza stampa a Teramo dal segretario regionale della Lega Luigi Deramo, che ha rinviato al mittente le accuse di voto disgiunto. Potrei querere alle Antonetti, ma non amo perdere tempo. Così, ha detto Deramo, è stata una scelta sbagliata. L'esperienza teramana non dovrà mai più essere ripetuta in Abruzzo. Vulano gli stracci nel centrodestra dopo la sconfitta elettorale a Teramo. Questa mattina, nel corso di un'accesissima conferenza stampa, è arrivata la dura replica del segretario regionale della Lega Luigi Deramo e dei vertici teramani del partito al jacuzzi del candidato a sindaco del centrodestra Carlo Antonetti, che due giorni fa aveva parlato di mancanza di lealtà da parte della Lega, denunciando che il partito di Salvini aveva fatto convergere i propri voti su Gianguido D'Alberto attraverso il voto disgiunto. Io non accetto, e lo dico in maniera chiara, lo dico da segretario di partito, che qualcuno possa mettere in dubbio la lealtà, la correttezza, la coerenza, la credibilità, la pulizia politica e morale del partito che io rappresento e mi onoro di rappresentare in questa regione e anche in questa città. La Lega ha correttamente portato avanti la propria campagna elettorale, a sostegno dei propri candidati e ha sostenuto con lealtà, pur non condividendo nulla, il sindaco Antonetti. Ovunque siamo andati abbiamo detto di votare il sindaco Antonetti e non permetto a un parvenu della politica di accusare il partito di azioni scorrette, addirittura affermando con certezza assoluta che abbiamo perseguito l'azione del voto disgiunto. Lo potrei querelare, potrei chiedergli danni per quello che ha affermato, ma non amo perdere tempo. D'Eramo ha inoltre posto l'accento su quelle che ritiene le gravi carenze nella proposta politica messa in campo dal centrodestra. È di tutta evidenza che abbiamo avuto un problema come centrodestra di proposta politica che potesse attirare l'attenzione dell'elettorato. Quelle ci vogliono togliere anche il timballo, ora basta, sembrava una scena del film di Cetta, la qualunque. Il segretario regionale della Lega abruzzese ha poi ricordato che la Lega, fin dall'inizio, aveva espresso perplessità sulla candidatura di un aspirante sindaco proposto da una forza estranea alla coalizione, ovvero azione. Gli ha messo in chiaro che l'esperienza terramana non potrà in alcun modo essere riproposta in altri comuni abruzzesi e men che meno in occasione delle imminenti elezioni regionali. Sottanelli e azione dicano, visto che tacciano, con chi saranno candidati e con chi si candideranno alle prossime elezioni regionali. Su questo credo che vada fatta chiarezza, così ci togliamo pure dall'imbarazzo, dal chiacchiericcio di repliche dell'esperienza terramana. L'esperienza terramana è stato un fallimento. Non si può mettere in crisi la credibilità, la forza, il buon lavoro che Marco Marsilio e la coalizione di centradestra hanno fatto in questi quasi cinque anni di amministrazione regionale, semplicemente per provare formule che non hanno evidentemente né una logica né una coerenza politica. Siamo allo sport, play-out senza ritorno nel pomeriggio di oggi per il notaresco. In trasferta a Riano in casa del Roma City. Alla squadra di Bruno serve ad ogni costo una vittoria al termine dei 90 o 120 minuti. Nella Pool Scudetto invece il Pineto chiude il triangolare ospitando in casa l'Arezzo. Una gara senza ritorno. Il notaresco chiude la stagione a Riano alle porte di Roma per salvare una categoria che per quanto concerne l'Abruzzo ha già perso. In alto il Pineto, salito in Lega Pro e in basso la Vastese retrocessa nel campionato di eccellenza. La partita con Roma City è l'ultima di una stagione travagliata per i colori rosso-blusciti. Vincitori dallo spareggio di domenica scorsa contro il Monte Giorgio. Servirà per forza di cose una vittoria che sia al termine dei 90 o 120 minuti. eventuali perché i laziali allenati da Francesco Statuto, presente in tribuna a Sansepolcro, hanno chiuso con una classifica migliore del notaresco che varrebbe in caso di X alla fine della contesa. Dunque la squadra di Alessandro Bruno non ha alternative. Deve segnare un gol in più degli avversari di domani, tenendo conto che ci sarà sciba tra i pali. L'estremo difensore, infatti, dopo essere stato squalificato per due turni dal giudice sportivo per frasi blasfeme e riverenti nei confronti di un assistente di linea, sarà in campo perché la terza sezione del collegio di giustizia sportiva ha accolto il ricorso d'urgenza della società notareschina che ha portato anche a sostegno le immagini televisive per smontare la tesi accusatoria del commissario di campo. Chi invece certamente non ci sarà sono i due giocatori che al buitone hanno rimediato il cartellino rosso con la Zilli in difesa e Gelsi a centrocampo. Saranno sostituiti rispettivamente da Campestre e Cuchi, mentre per il resto la formazione sarà identica a quella che si è guadagnata il play-out contro il Roma City sei giorni fa. I precedenti però non sono favorevoli in questa stagione. Due gare e due sconfitte contro gli Arancio Blu. L'andata al Savini finì 2-3 a dicembre. Raffini autore di una doppietta e poi Perroni misero in discesa una gara che nel finale Manari prima e di Renzo poi resero dallo scarto meno importante. Molto diversa la partita di ritorno a Riano dove si giocherà domani. Notaresco in palla e in superiorità numerica per il rosso ad inizio ripresa a Matteucci per doppio giallo. Tentativi che vanno a vuoto come la traversa sfortunata di Gelsi che domani non ci sarà prima della distrazione fatale nel tempo di recupero e la volata di Mancino per servire il tap-in di Rasi che piega una squadra che dopo quello stop sembrava spacciata e che invece ha trovato dentro di sé la forza per rialzarsi. Servirà una partita di alto profilo con l'abruzzo calcistico che guarda con interesse al destino del Notaresco e col Castelnuovo in eccellenza che da una salvezza rosso-blu ne ricaverebbe una salvezza ulteriore nel massimo campionato regionale. A Pineto invece terzo e ultimo incontro del triangolare per il Pineto nella Pool Scudetto dopo la sconfitta contro la Gianna Erminio di mercoledì in attesa della rivincita con i Lombardi nella finale di Coppa Italia del 28. I Biancazzurri vogliono chiudere in bellezza contro l'Arezzo. Serve vincere con due reti di scarto per solpassare le altre due contendenti che hanno tre punti a testa ma che con un successo del Pineto con quelle proporzioni starebbero dietro alla formazione di Amaolo per differenza reti. Termina qui questa edizione del TG6 La Settimana. A tutti voi l'agurio di una buona e serena domenica. Grazie a tutti.